I studenti misurano delle resistenze con questi valori qua, 11, 12, 13, con un errore di 1, 1, 3. Ci chiede il problema di combinarle, quindi se noi le mettiamo insieme abbiamo la nostra misura di 10 con il re bello grosso da qua fino a qua, poi abbiamo la nostra misura di 11 con un errore che va da 10 a 12 e poi la misura di 12 con un errore di 1, quindi va a 11 e a 13. Quindi esiste una zona in cui tutte e tre le misure sono compatibili a occhio, poi potremmo usare il criterio a 3 sigma ma ne basta uno. Allora, cosa bisogna fare in questi casi qua? La media non è un ottimo lavoro a causa di questo, perché è diverso da 1. Se fosse come gli altri, uguale 1, la media sarebbe un ottimo caso, ma in questo caso qua dovremmo scrivere una formulozza brutta che la scrivo un attimo, sarebbe la sommatoria degli x con i fratto sigma con i al quadrato fratto, se mi ricordo bene, tutti indicizzati, infatti la sommatoria degli 1 su sigma con i al quadrato. Però, questa roba qua è brutta, e dato che stiamo parlando comunque di media, di fare una media sensata di queste cose qua, il libro ci fornisce una cosa più carina di media pesata, ossia proprio parliamo di peso, dove andare a un certo peso alle misure. Per esempio, il peso è stato definito così, è weight di una misura iesima uguale 1 fratto la sua deviazione standard al quadrato. Quindi, con la formulozza di brutta generica, la nostra misura combinata è la sommatoria dei omega i x fratto la sommatoria dei omega i. Qua abbiamo soltanto 3, quindi la sommatoria sarebbe da 1 a 3, e, allora, i vari omega, noi calcoliamo, ci mettiamo veramente un attimo, perché il primo e il secondo sono 1 su 1 al quadrato, quindi fa 1, mentre invece il terzo è 1 su 3 al quadrato, quindi fa 9. e quindi la nostra, vai facendo il calco di vari, ci dice che la nostra misura, perché non mi scrive? Perché sto cancellando. La nostra misura x è 11.42. Qual è l'errore da associare a questa misura? Allora, è comodo parlare di peso, perché il peso di questa misura è pari alla somma dei pesi delle altre, quindi è 1 più 1 più un nono, qua fa 2, qua fa 19 noni. Ma questo non è l'errore da associare a x. L'errore da associare, perché questo qua cos'è? È 1 fratto l'errore da associare a x al quadrato. Quindi, da questo, otteniamo che il nostro errore è 1, quindi sigma uguale 1 fratto la radice quadrata di 19 noni e questo è 0.7 circa, quindi la nostra misura è 11.4 più o meno 0.7. Se sapissimo anche il valore vero di questa misura, che magari stiamo parlando, non so, di una costante universale, quindi che esista veramente un valore vero, queste cose, potremmo calcolare anche il chi quadro, ossia, cos'è il chi quadro? Il chi quadro è definito come la misura iesima meno il valore vero fratto sigma di a il tutto al quadrato, ma abbiamo tante misure, quindi dovremmo sommare tutti questi vari valori. Quindi poi non diventa di a, ma diventa di i al quadrato. però questa cosa qua serve ad iscriverci un valore che è molto vicino allo valore vero e quindi potremmo metterci qua la nostra x e calcolarci il nostro chi quadro, però l'esercizio non lo chiede. l'esercizio non lo chiede. l'esercizio non lo chiede.